Ben trovati nell'angolo dello sport. La sconfitta subita contro il Chievo a Pescara che è la seconda sconfitta in casa dopo quella subita con l'Inter ha fatto rivedere un po' di situazioni e un po' di posizioni soprattutto ad alcuni tifosi soprattutto quelli che parlavano di asfaltare il campionato ma anche a determinati colleghi che avevano detto alla vigilia che la partita contro il Chievo era una partita contro una squadra alla portata del Pescara e che il Pescara avrebbe avuto facilità di vita e soprattutto avrebbe conquistato la sua prima vittoria interna. Così non è stato a dimostrazione di quanto sia facile qui a Pescara esaltarsi e invece di vivere delle emozioni dettate sì dalla passione ma anche dal raziocinio e allora bisogna rifarsi alla mentalità e al giudizio di tifosi che sono esterni pur innamorati della Pescara ma che vivono una realtà non condizionata dalla presenza a volte pesante di determinati scherani che stanno a difesa del pensiero del ragioniere Sebastiani. A rappresentare i tanti tifosi che mi hanno scritto, che mi hanno mandato i loro messaggi e che mi hanno espresso il loro pensiero propongo e con l'aiuto del regista l'immagine di Gianfranco Sborgia, professore molto conosciuto a Pescara, amico della Pescara Calcio, amico a suo tempo personale di tanti personaggi da Tom Rosati a Vincenzo Marinelli a Nicola Raccuglia a Danilo Gianfranco Sborgia a Gianfranco Sborgia che al momento vive a Bari ed è direttore di un centro di medicina sportiva ha espresso chiaramente il suo giudizio dicendo, ve lo sintetizzo in breve, dicendo che manca il finalizzatore ad una squadra che gioca bene palla a terra con le sue triangolazioni ma che non riesce a concretizzare la mole di lavoro svolto. Quindi in definitiva parodiando una frase che è stata detta anche da Moggi Padre ore fa, il Pescara gioca bene ma fa divertire gli altri. Ma questa era una realtà da noi ben espressa. Il mio regista Leo Di Blasio mi ha ricordato che anche in trasmissione di Settimane Orsono, quando gli altri pensavano di dire che tutto era fatto nel migliore dei modi e che il mercato proposto da Sebastiani era il migliore, mi ha ricordato lui perché io certe volte le dico le cose poi passo sopra perché vado oltre, mi ha detto già ma tu avevi detto chiaramente che era incompleta, che mancava un uomo in difesa e un uomo in attacco. Nel momento in cui Leo me lo ha ricordato ho fatto mente locale e allora mi viene da dire a molti tifosi che quando sentono criticare la squadra accusano, etichettano gli altri di essere dei gufi o di non essere amici del Pescara, anzi dicono di essere nemici del Pescara, imparassero a giudicare e soprattutto a dire le cose nel modo giusto perché probabilmente si potrebbe essere nemico sportivamente parlando o calcisticamente parlando di Sebastiani per gli errori che fa e per i diktat che impone con i suoi scherani, i quali non consentono in curva nord di parlare di fiatervi che se qualcuno si azzarda a dire una parola contro la società viene bistrattato e a volte anche malmenato. Allora a questo punto dico giudicate con la mente e non solo con il cuore ma non lasciatevi addormentare soprattutto da chi vuole che tu tifoso non ragioni, da chi vuole che tu tifoso accetti i diktat e tutto va bene madama la Marchesa, ma non è così, la realtà di questo campionato è tale che sta mettendo in chiara evidenza che la campagna acquisti non è stata fatta bene. Allora a questo punto chi dice queste cose non è nemico del Pescara, potrebbe essere uno che punta gli accenti sull'operato del Presidente e basta, ma a questo punto io dico e concludo perché il tempo a mia disposizione sta finendo ragionate col cervello, non ragionate soltanto con la passionalità e soprattutto ricordatevi che una critica ben fatta aiuta a crescere e a migliorare, aiuta a crescere e a migliorare. Il servilismo di certi Lecchini continua invece a far credere di essere nel giusto quando si è nell'errore e se si continua nell'errore questo campionato di Serie A lo perdiamo. È tutto per questa edizione, un affettuoso abbraccio a voi tutti come sempre da Gianni Lussoso, un grazie al mio regista Leo Di Blasio, appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport.